stai affrascati se accade che una nevichata provochi quello che potete vedere una nevichata quindi un anno fa ma forse è meglio che la storia me la faccio raccontare da chi l'abbia vissuta allora che è successo un anno fa nevicò un piccolo buco da quello che vede adesso abbiamo chiamato i vigili urbani sovvenuti e ci abbiamo chiesto di intervenire hanno chiamato la protezione civile ci hanno messo il nastro e abbiamo chiesto di venire perché è pericoloso qua sotto passa la fogna ecco qua al punto che loro hanno detto adesso non possiamo intervenire poi dopo finita la neve verremo a vedere dopo varie insistenze al comune abbiamo chiesto di intervenire perché mano mano se sta allargare il marciapiede più sta più da bassa a quel punto invece ci hanno risposto che non ci sono i soldi e che fino a che non possiamo intervenire qui l'umidità la vedete la strada è quella che è poi aspetta poi c'è quest'altra ecco qui anche questo stesso discorso no uguale identico piccola voragine 4 5 serci adesso mano mano sei arrivato a questo ecco state affrascati se se dopo un anno siamo ancora a carissimo amico